Salve a tutti. Oggi vi porterò in anteprima gli sviluppi emozionanti di Terra Amara, nelle puntate che verranno trasmesse giovedì 24 e venerdì 25 agosto. Saranno episodi densi di colpi di scena, quindi vi raccomandiamo di rimanere con noi fino alla fine. Non ve ne pentirete. Dal salotto giunge l'eco delle preghiere delle donne presenti. Si tiene la veglia funebre di Anka Riaman e, oltre alle preghiere delle amiche e dei conoscenti di Ankar, c'è Beis, il volto coperto da una maschera di tristezza. Emin stringe al petto la scarpa di Ankar, affermando che è la scarpa di sua figlia e che non la darà a nessuno. Nel frattempo, in giardino, Fekeli si avvicina a Demir che piange in disparte. Sprime il desiderio che la madre gli dicesse che tutto è uno scherzo, e lui si inginocchierebbe ai suoi piedi, spiegando di aver capito cosa significa la sua assenza. Fekeli aggiunge che ora sono soli e che la loro vita è finita, sottolineando che i rimpianti per ciò che si è perso sono la cosa più dolorosa, e spesso si rende conto di ciò troppo tardi. Invita Demir a indurire il suo cuore per sopportare il dolore. Sevda fa il suo ingresso alla villa, suscitando lo stupore degli uomini. Nel salotto, si mormora che quando la polizia troverà il colpevole, Demir lo ucciderà, e Beys, con finta tristezza, concorda. Quando Sevda entra, suscita di nuovo lo stupore. Sermin commenta che non ha dato pace ad Ankar quando era in vita e ora la infastidisce anche dopo la sua morte. Zuleya, tuttavia, va incontro a Sevda, la abbraccia piangendo e la invita a sedersi. Sevda nota gli sguardi delle altre donne e decide di ritirarsi temporaneamente. Tornata in giardino, Demir va da lei e lei esprime il suo dispiacere, non comprendendo chi possa aver ucciso Ankar. Demir risponde che non lo sanno e che i gioielli che indossava sono scomparsi, ma pensa che possa essere un depistaggio. Nel frattempo, Emin si reca nella camera da letto della figlia, stringendo la scarpa al petto. Si siede sul letto e accarezza il cuscino, ripensando ai momenti in cui Ankar era con lei. Gulten e Fadik, sopraffatte dal dolore, si siedono sulle scale della cucina, ognuna ricordando gli aiuti che Ankar ha fornito loro nel corso degli anni. Saniai è sulla soglia della sua casa con Gaffur, e piangono mentre ricordano il bene che Ankar ha fatto a ognuno di loro nel corso degli anni. Zuleia nella sua stanza piange, stringendo una sciarpa di Ankar e ripensando al momento in cui Ankar l'ha chiamata madre dopo averla perdonata. Fecheli, seduto ai piedi di un albero, stringe al cuore un fular di Ankar, rivivendo con dolore i loro incontri e gli abbracci, sperando di poter finalmente vivere una vita insieme. Scoppiando in un pianto disperato, si rende conto che il loro sogno d'amore è stato infranto, questa volta per sempre. Demir, disperato, si accascia ai piedi dell'albero in cui si rifugiava da bambino e rivede sua madre che lo guarda dal terrazzo. Le donne lavano il corpo di Ankar, e Zuleia la accarezza, pensando al momento in cui era convinta che Ankar non l'avrebbe mai perdonata. Ora la benedice, chiamando la madre, e promette di parlare di lei ai suoi nipoti, assicurandole che nulla sarà dimenticato. Sania i bacia la mano di Ankar e vorrebbe che la chiamasse ancora la sua bellissima ragazza. Anche Gulten è inconsolabile e piange, poiché Ankar le ha fatto da madre dopo che era rimasta orfana. Nel frattempo, Beis legge gli articoli dedicati a Ankar sui giornali e afferma a Mugeigan che il destino ha deciso che il tempo di Ankar Yaman fosse scaduto, definendola la regina di Kukurova. Mugeigan risponde che non è vero, poiché è stata pugnalata molte volte, e spera che l'assassino venga trovato. Beis le conferma che vuole che l'assassino sia scoperto. Mugeigan le chiede se non le sembra strano che Ankar sia stata uccisa subito dopo che lei aveva detto di dover fermarla prima che entrasse in quella casa. Beis le chiede se pensa che sua zia, che ha tanto sacrificato per lei, sia un'assassina. Mugeigan risponde che vuole solo sapere se è stata lei ad ucciderla. Beis, furiosa, le dice di scusarsi e, con voce minacciosa, le intima di non intralciarla mai più, avvertendola che non la tratterà più come una nipote. Offesa, inizia a fare la valigia e accusa Mugeigan di averla chiamata assassina. Mugeigan le fa notare che ha solo menzionato una coincidenza tra le sue parole minacciose e la morte di Ankar, sottolineando che poteva risponderle che era estranea alla sua morte. Beis, furiosa, le risponde che non deve dirle niente e che si pentirà chiedendo perdono, ma sarà troppo tardi. Se ne va in taxi, mentre Mugeigan prega che sua zia non sia responsabile dell'omicidio. È il giorno del funerale di Ankar, ed Emir piange accasciato sulla sua bara. Nel frattempo, Fekeli tiene una mano sulla bara mentre una folla di persone che l'ha amata si raduna, molte in prima fila. Iniziano le preghiere secondo il rito musulmano, e arriva Sevda, suscitando lo stupore dei presenti. Si siede vicino a Zuleya, ma viene presto avvicinata dai gendarmi, che la informano di essere in arresto per l'omicidio di Ankar Yaman. Tutti assistono sbalorditi, da Demi Rafekeli e Mugeigan. Sevda, incredula, risponde che non capisce e che stanno commettendo un errore. Sania interviene, accusandola di aver rovinato il matrimonio di Ankar, e gridando che è un'assassina. Anche Sermin l'accusa, e Saniai grida che Ankar, era come una madre per tutti. Spaventata, Sevda chiama Demir, ma lui sta portando via la bara insieme a Fekeli, Ilmaz e Fikret. Sevda viene portata via dai gendarmi mentre Saniai urla il suo dolore per la perdita di Ankar. Il lento corteo funebre, guidato dalle mamme e da Gaffur, che tiene una grande foto di un car, si dirige verso il luogo della sepoltura. Nel frattempo, Beis è alla stazione dei treni e sente le persone maledire chi ha ucciso Ankar. Mugeigan la raggiunge e le dice che hanno arrestato l'assassino di Ankar, chiedendole scusa. Beis, con aria strafottente, finge di non ascoltarla e le rinfaccia tutto ciò che ha fatto per lei. Mugeigan si scusa di nuovo e la prega di tornare a casa con lei. Nel frattempo, al cimitero, nella solenne atmosfera del dolore, la bara di Ankar viene tumulata. Le donne si trovano intorno, con Zuleya e Sermin in prima fila, seguite da altre che le hanno voluto bene, e poi il gruppo degli uomini. Zuleya getta una rosa sulla bara, ed Emir inizia a coprirla di terra, seguito da Fekeli, Ilmaz e altri. Demir riceve le condoglianze dei presenti, mentre Sania i piange disperata sulla tomba, consolata da Zuleya. Intanto, Fikret si ferma davanti alla tomba di Adnan Yaman. Alla fine, tutti se ne vanno, lasciando Ilmaz con Fekeli, che si siede sulla tomba e accarezza la lapide. Poi dice a Ilmaz di andare via e lasciarlo solo con il suo amore. Rimasto solo, parla con Ankar, dicendole che ora che se n'è andata, metà del suo cuore e della sua anima sono sepolti con lei. Spera che i giorni che gli restano da vivere siano pochi, affinché le loro anime possano riunirsi, poi si accascia piangendo sulla sua tomba. Nel frattempo, Amin è molto agitata e vuole cercare sua figlia, ma la donna che è con lei le dice che è morta. Amin si arrabbia e risponde che è andata al bazar. Le anticipazioni finiscono qua. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un mi piace ed iscriviti al canale. A presto, ciao.